Ed ecco voi il venerdì della fotografia di YonPix, per tutto il momento da sai. Ciao, io sono YonPix e voi siete su YonPixTV, è un canale YouTube dove metto un po' tutte le mie prove e contenuti video, però dovete sapere che su Instagram da ormai un annetto ecco una cosa che si chiama il venerdì della fotografia come storia, quindi durano 24 ore e vanno a sparire. Sono storie dove parlo di fotografia tutti i venerdì. Parlo di fotografia a 360 gradi, che sia commentare la copertina di un album storico oppure che sia l'uscita del nuovo iPhone. Questo video è per spiegarvi che cosa state per vedere, perché ho deciso di mettere su YouTube una playlist con tutti i vecchi venerdì della fotografia che ho fatto e mano a mano aggiungere i nuovi che farò cercando di allinearmi e mettermi a passo con Instagram. Pubblicherò su YouTube solo le puntate che mi sono piaciute di più, quindi ci sarà una playlist che sarà linkata da qualche parte qua accanto credo, dove potete iscrivervi e vedere tutti i venerdì alle 14 un nuovo video. Io mi occupo di fotografia da circa 10 anni e forse più, l'ho fatto a livello sia professionale che da amatore, ma soprattutto ce l'ho nel sangue e non riesco a staccarmi dal mondo della fotografia. Per questo ho deciso di fare questo piccolo format, anche se è il nome che è più grosso di me forse, su Instagram. All'inizio mi piaceva l'idea che dopo 24 ore spariva tutto quello che avevo detto. Adesso invece voglio provare a mettere le cose che sono avute meglio su YouTube per vedere cosa succede. Ah, piccola attenzione, le storie su Instagram sono tutte quante fatte in verticale, quindi pubblicherò i video in verticale. Se state guardando i video da uno smartphone o da un tablet non c'è nessun problema, giratelo. Se invece siete ancora in quel piccolo 5-10% di persone che guardano YouTube tramite un computer, beh, non vi preoccupate, il venerdì della fotografia più che altro sono io che parlo, quindi potete tranquillamente fare altro mentre mi ascoltate e ogni tanto buttare occhio se metto qualche contenuto fotografico. Mi raccomando, seguitemi su Instagram così potete partecipare a tutti i vari sondaggi che faccio e scrivermi per poter essere un po' più interattivi durante la puntata. Basta, chiudo e normalmente dico al prossimo venerdì della fotografia, ma in questo caso dico andate oltre che alle 2 esce il primo video. Ciao!